Olibible Mixtape, la Bibbia Rap, un brano dedicato ad ogni libro, un viaggio. Infiniti universi possibili, un'altra galassia tra miliardi, il Signore degli Spiriti creò la dimora. Della vita umana al primo giorno la Terra era deserta ancora, in principio fu l'oscurità. Lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie dell'acqua, già disse sia luce, luce fu. Il libro spiega poco di quel giorno, non ne so di più, comunque realizzò il progetto esposto agli arcangeli. Popolo al tenente di batteri, microbi, animali ed alberi, contemplò l'opera completa contento, è raggiunto il momento del grande vento. Danilo Azzurro lascerà la civiltà per poi diffondersi e devolversi fino a qua. Adamo il primo è nato quel mattino in cui il Supremo Re è vivino, ha soffiato nella grilla modellata dando vita a quella. Macchina perfetta che contiene gli elementi della terra, in cui una creatura eterna si ritrova nata, finché non esaurisce il tempo e la sua casa. Adamo il primo chiede il nome ad ogni pianta e ad ogni bestia che incontro esplorando il giardino. In un territorio ricco di piante edibili, luoghi vivibili, natura generosa senza limiti. Adonai crea la donna dalla sua costola, dopo avergli dato un regolamento, da seguire in modo scrupoloso e attento. Ascolta attentamente un momento, puoi mangiare i frutti di tutti gli alberi che hai vicino, ad eccezione di quello al centro del giardino. L'albero della conoscenza te lo dico, chiaro è proibito. È letale se lo mangi niente, ospedale, funerale. Guardalo ma non mangiarne o se lo farai morirai. Dicono che in principio accadde così, Bible mixtape libro della Genesi. Anche oggi apro gli occhi nasce un nuovo D, Gift and Smile Again Free Tranquility. Dicono che in principio andò così, Bible mixtape libro della Genesi. Anche oggi apro gli occhi inizia un altro D, Gift and Smile Again Free Tranquility. Animo all'astuto serpente, chiamo Eva la compagna di Adamo per tauriarne la mente. Fammi capire, Dio vi ha detto che non potete mangiare alcun frutto in questo campo benedetto. Ma che? Non possiamo mangiarne da tutti tranne uno, c'è pericolo di morte, non è opportuno. Io di questa regola me ne sbatto, già Dio ha mentito, non moriresti affatto. Per questo vuole prevenirvi dal mangiarne, Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito e quindi furono cacciati dal giardino, poi il loro primo, figlio Caino, uccise il fratellino. Poi generazioni di pluricentenari, già la terra è un casino. E chi lo risolveramo? Creature in visita dal cielo, anni pesanti, in crocita romagna ed angeli, nascono i giganti. Tanti violenti epipotenti fanno danni, altri sono eroi famosi di leggende importanti. La terra ormai colma di crimine e corruzione, diluvio globale è la soluzione. La collaga è ogni terra abitata, morti uomini, animali e piante, restano pesce ed alghe. E nocletio che fu gradito a Dio davvero, quindi fu rapito in cielo e dall'alto vide fiero. Noè e sua nipote salvaria una coppia di ogni essere vivente su una barca costruita appositamente. Di legno da suo figlio Cam discendono i neri, da semi mulatti, dagli affetti bianchi cinesi. Io scelse Bamo e la sua sposa, che non adoravano statue promise di scendenza numerosa. Da Isacco discendono gli israeliti, da Ismael e gli arabi crebbero separati. Dicono che in principio accade così, Bible mixtape libo della genesi. Anche oggi a Pogliocchi nasce un nuovo D, Give thanks my rag and free tranquillity. Dicono che in principio andò così, Bible mixtape libo della genesi. Anche oggi a Pogliocchi inizia l'altro D, Give thanks my rag and free tranquillity. Quando giungeva la sera, Isacco beveva il tè e si metteva a fare su. Oramai era assai invecchiato, sui occhi indeboliti non ci vedevano più. Allora impara con la voce tremante, chiamò suo figlio Esau. Ti prego vieni qui, nel nome del buon Dio che sta lassù. Figlio mio, questi rispose, eccomi padre, vieni devo dirti quattro cose. Io sono molto anziano e non conosco il giorno in cui la morte arriverà in un viaggio senza ritorno. Ora prendi ti prego le tue armi, l'arco e le frecce che hai davanti. Esci nei campi, procura un po' di selvaggina buona e torna in zona, fai sta roba. Ok falla dai. E le pago una pietanza saporita affinché io la mangi e poi ti benedica. Fallo. Con un rituale che ti assicuri, prosperità per i giorni futuri, frutti puri. Beh. Esau andò fuori per cacciare un po' e portare al padre Esacco il cibo. Su madre Rebecca chiamò suo fratello, ubbidisce la mia voce, esegui gli ordini veloci. Ho un piano perfetto, sono pronto all'azione. Indosso i vestiti di tuo fratello e metti il suo giacone, così avrai il sodore. Con questa pelle di capretto sarai peloso come lui, vai. Sei sicuro, funzioni? Se mi scopre, altro che benedire lancerà maledizioni. Perché ingannare mio padre con un piano losco e rubare mio fratello al suo posto? Giacobbe fece come l'amade ordinò, il padre ci cascò ma poi Esau tornò. Ok. Esacco disse ormai ho benedetto Giacobbe al tuo posto sai. A te dico che avrai anni di guai, bye bye. Dicono che in principio accade così, io, Bible mixtape libro della genesi, bro. Anche oggi appogli occhi nasce un nuovo D, bro. Give ten smile again free tranquillity, go. Dicono che in principio andò così, io, Bible mixtape libro della genesi, bro. Apro che oggi appogli occhi inizia un altro D, go. Give ten smile again free tranquillity, bro. Un brano dedicato ad ogni libro. The Bible mixtape. Ujut Cremonticlo. www.ujut.altervista.org Wisdom3Music DJ Succhio Spacco tutto, faccio brutto Give thanks and praise Live in test days Fireblaze Fireblaze High grade in the place High grade in the place Fireblaze 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 High grade in the place Fireblaze Grazie a tutti.